A salone di Francoforte 2017 fa sfogge di sé anche il nuovo SUV di Jaguar, l'E-Pace 4,39 m di auto per 2,68 m di passo, un'auto quindi piuttosto grande che si colloca comunque sotto al top di categoria, ovvero l'E-Pace Come possiamo vedere abbiamo sempre la grande griglia frontale con il marchio della casa inglese Che riprende comunque gli stilemi attuali così come il corpo fari full LED Grandi cerchi da 20 pollici per la linea laterale che è stata molto lavorata Si può vedere la differenza in questo caso molto rispetto a quello che è appunto il più grande F-Pace Perché l'E-Pace risulta essere molto più incurvato, quasi una SUV coupé rimanendo in casa Land Rover anche insieme a Jaguar Ricorda un pochino se vogliamo il più recente E-Book La vettura anche nella parte posteriore riprende quella che è la linea attuale di Jaguar Con la striscia LED leggermente lavorata in un modo diverso, meno tondo questa volta rispetto anche al resto della gamma E con il doppio sistema di scarico integrato in un unico fascione L'abitacolo è pronto per 5 persone, 3 possono sedere comodamente dietro Possiamo vedere anche che c'è tanto spazio per le gambe Naturalmente alta è la cura per gli interni con i sedili in pelle e cuciture rossa vista Nel caso delle Pace che abbiamo qui sotto i nostri occhi Per quanto riguarda la seduta davanti, anche qui grande cura come abbiamo già detto prima Ma un occhio anche a quelli che sono i vani portaoggetti che ritroviamo nelle portiere ad esempio Possiamo vedere come sono stati scavati per far posto a diversi elementi come bottigliette d'acqua piuttosto che smartphone e documenti E parlando invece di tecnologia, sistemi di infotainment abbiamo il nuovo schermo da 10 pollici Touch dove è possibile accedere a tutte le diverse funzioni della nuova Jaguar e Pace E controllare qualsiasi quindi situazione che si stia verificando Passiamo anche al lato della meccanica In questo caso abbiamo un cambio automatico ZF a 9 rapporti Che sarà abbinabile pressoché a tutti i motori Motori che sono i benzina e diesel 2.0 di tecnologia Ingenium Con potenze comprese tra i 150 e i 300 cavalli Le prestazioni di E-Pace non saranno sicuramente da meno Con degli 0-100 in alcuni casi che sfioreranno i 6 secondi Per cui si apprezza ad essere un SUV veramente sportivo all'interno della sua gamma Non è un SUV e non è propriamente un'auto da corsa come ce l'aspetteremmo Però la nuova Jaguar E-Pace preparata per correre è sicuramente una vettura alquanto innovativa Saranno 20 le vetture che prenderanno parte nel corso della stagione 2018 A 10 gare in tutto il mondo, in Europa, in Asia e anche in America del Nord La vettura inoltre è completamente elettrica Quindi potrebbe essere anche affiancata alle attuali Formula E Dove Jaguar ricordiamo ha anche un team Sarà quindi interessante vedere gli sviluppi di questa vettura affiancata anche da Jaguar E-Pace Che chi lo sa magari in un futuro potrebbe avere una versione ibrida o completamente elettrica Un'ultima postilla Per quanto riguarda Jaguar sempre E-Pace Ricordiamo che sarà disponibile nei concessionari da quest'inverno Con prezzi a partire da 36.000 euro Grazie a tutti Grazie a tutti